Estetiste tra le mura domestiche ma completamente sconosciuti al fisco, a scoprire tre casi negli ultimi giorni la Guardia di Finanza di Arezzo. L'indagine era partita lo scorso dicembre dal monitoraggio di centri estetici pubblicizzati sui social network, a dare nell'occhio la moltitudine di follower e di posta pubblicati. Così sono stati svolti accertamenti sulle banche dati nella disponibilità delle fiamme gialle, dalle quali è emersa in modo chiaro l'operatività di tre imprese casentinesi in totale evasione di imposta e, per due di esse, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. Le ricerche hanno permesso di acquisire la documentazione extracontabile attraverso la quale sono stati riscontrati puntualmente gli appuntamenti che gli estetisti annotavano per i trattamenti da eseguire. Al termine dei controlli, i finanziari di Poppi hanno quantificato redditi non dichiarati per oltre 200.000 euro a fronte di numerose prestazioni senza l'emissione del documento fiscale. Sono scattate anche le sanzioni amministrative sino a 18.000 euro per due dei soggetti controllati per aver esercitato l'attività abusivamente, ossia in assenza dei requisiti professionali e delle autorizzazioni comunali e sanitarie.